C'è stato un incidente in autostrada con una dinamica importante dopo la crocina in un'auto per motivi da accertare anche lì da parte della polizia stradale si è ribaltata e per diversi mertiri è uscita dalla carreggiata ha urtato anche alcune cartellonistiche presenti a bordo strada la persona coinvolta è uscita da sé però per la dinamica e l'importanza dell'evento è stato centralizzato con l'elisoccorso Pegaso su Siena è Franco Scortecci l'aretino coinvolto in uno spaventoso fuoristrada avvenuto nel tratto aretino dell'autostrada del Sole in tarda mattinata commerciante ex presidente dell'istituzione giosta del Saracino e attuale presidente della partecipata Coingas Scortecci stava viaggiando a bordo della sua auto in corsia nord verso Firenze al chilometro 345 all'altezza della crocina per cause in corso di accertamento la sua auto si è ribaltata più volte ed è finita fuoristrada Scortecci ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico all'arrivo dei soccorritori del 118 era cosciente è stato allertato il Pegaso a bordo del quale Scortecci ha raggiunto il policlinico delle scotte di Siena in codice rosso sul posto una pattuglia della polizia stradale per i rilievi di legge Scortecci ha riportato un po' di rilievi di legge Scortecci ha riportato un po' di rilievi di legge